Prima posizione! 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 Munizioni pesanti in arrivo! Munizioni pesanti disponibili! Guardiano a terra! Prima posizione! 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 Siamo un guardiano a terra. Siamo un guardiano a terra. Ho perso il comando. Cinque minuti rimasti. Siamo un guardiano a terra. Siamo un guardiano a terra. In testa! Siamo un guardiano a terra. Comando perso! Prima posizione! Abbiamo un guardiano a terra. Non è una lotta. È un massacro! Munizioni pesanti in arrivo! Munizioni pesanti disponibili! Un'altra battaglia vinta! Alla prossima dunque!